Ciao ragazzi, oggi parliamo ancora una volta e probabilmente per l'ultima volta del desktop environment GNOME. Più nello specifico oggi voglio mostrarvi le estensioni che ho usato in questo periodo di prova di GNOME perché ormai, come avrete capito, per un periodo di tempo in realtà molto breve ma poi ve ne parlerò meglio in un prossimo video ho usato, o meglio, ho provato GNOME in hardware reale quindi installato come desktop environment principale e per renderlo più adatto al mio tipo di operatività, al mio anche carattere ma anche al mio modello, diciamo, operativo ho dovuto installare delle estensioni ora non sono proprio poche, ma le estensioni che effettivamente mi servivano e che ho installato perché avevano un'utilità sono due, forse tre tutte le altre sono estensioni più che altro per rendere GNOME secondo me più carino da vedere per renderlo meno bianco e nero perché poi, lo dirò anche nel video appena l'ho installato mi sembrava che fosse praticamente solo in bianco e nero era praticamente tutto nero con un po' di bianco in giro e ho voluto aggiungerci un po' di colori quindi ho installato delle estensioni che andassero appunto a renderlo un pelettino più colorato quindi possiamo dire che per la gioia degli sviluppatori di GNOME come sapete a loro non stanno proprio tanto simpatici coloro che cercano di modificare la loro idea di workflow ho installato comunque poche estensioni che effettivamente modificano questa idea di workflow non ho fatto qualcosa di pesante che lo va completamente a modificare comunque detto questo, fatta questa breve introduzione direi che possiamo andare e quindi vediamo effettivamente quali sono queste estensioni innanzitutto prima di mostrarvi effettivamente le estensioni voglio parlarvi del gestore di estensioni che uso io che è praticamente questo qui si chiama gestore di estensioni che potete installare su qualsiasi distribuzione in realtà tramite Flatpak vedete qui quindi andate su questo sito qui LFFL e potete appunto installare tramite Flatpak questo gestore delle estensioni che è sempre fatto dal team di GNOME in GTK4 e dovrebbe appunto essere una specie di gestore delle estensioni nuovo non so se poi andrà a rimpiazzare quello vecchio che conosciamo ma appunto possiamo installare questo che a differenza di quello classico ovvero questo qui, quello a cui siamo abituati quindi questo qui, quello basilare diciamo quello che viene preinstallato praticamente in tutte le distribuzioni con GNOME vediamo che questo qui è molto semplice ci permette di disattivare le estensioni di rimuoverle, di disattivare le estensioni una a una oppure attivarle e quant'altro ma questo qui, quello appunto che utilizzo anch'io ci permette ovviamente di andare a disattivare le estensioni tutte insieme oppure di disattivarle una a una come anche di rimuoverle, di andare nelle impostazioni esattamente come l'altro la differenza però è che possiamo andare in sfoglia e avere qui, vedete, la lista delle estensioni quindi sappiamo che per installare un'estensione su GNOME generalmente cosa dobbiamo fare installare nel browser l'estensione di GNOME poi andare nel sito delle estensioni di GNOME e da lì appunto le possiamo installare con questo gestore qui invece non abbiamo bisogno di alcuna estensione nel browser ma ci basta semplicemente cercare qui un'estensione ad esempio BlurMyShell la prima che mi viene in mente e vedete, qui vado su BlurMyShell posso appunto installarla semplicemente da qui cliccare installa ad esempio facciamo finta che voglio installare questa clicco installa molto semplicemente installa e l'ho installata poi vado di qua vedete me la trovo qui senza appunto essere andato nel sito delle estensioni di GNOME e averla installata da lì quindi poi posso rimuoverla posso andare nelle impostazioni e posso poi rimuoverla molto semplicemente detto questo iniziamo però con le estensioni che uso io premetto che ne ho installate abbastanza e tutte queste estensioni vanno un po' forse a snaturare quella che è l'idea di workflow del team di GNOME però io con quell'idea di workflow non mi trovo più di tanto ho provato ad usarlo secondo la loro idea ma non mi ci trovo sinceramente perché in questo periodo più di tanto non sto usando Zoom io faccio anche conferenze su Zoom a volte e quando condivido lo schermo ovviamente trovo comodo il fatto di avere le applicazioni qui nella taskbar quindi qui io trovo comodo il fatto che magari sono in un file Excel per qualche motivo e devo passare al browser trovo comodo poter appunto farlo direttamente da qui perché se mentre condivido appunto lo schermo ogni volta devo andare nella gestione attività quindi in questa overview qui scegliere le applicazioni così magari devo andare sul browser puoi tornare su un file Excel dico a caso puoi tornare su un browser se devo farlo dieci volte dover ogni volta andare qui dopo un po' la gente mi fa ma che cavolo di sistema operativo hai che devi fare quella cosa lì ogni volta quindi vedete la comodità ad esempio io sono qui e volessi riaprire appunto quel gestore delle estensioni dovrei andare qui in attività e aprirlo da qui invece se ce l'ho qui mi basta cliccare qui molto semplicemente quindi questa estensione qui era disattivata perché se non devo fare conferenze su zoom non mi serve nel senso che è un po' scomodo il fatto di dover andare nel gestore qui nell'overview dell'attività ogni volta e sinceramente non mi ci trovo però vabbè si può fare ok magari è scomodo quando sono nel browser perché io faccio trading per chi non lo sapesse e a volte mi serve la calcolatrice per fare dei calcoli con le percentuali con le cose se io sono nel browser clicco il browser ovviamente la calcolatrice va via e dover tornare qui solo per aprire la calcolatrice diciamo che è un po' scomodo preferirei appunto che ci fosse la possibilità di aprirmela direttamente da qui quindi questa estensione qui comunque la prima che qui app icon stacks bari è un'estensione che secondo me va diciamo a rendere più comodo proprio l'utilizzo di gnome lo va a rendere più classico quindi va a snaturare quella che è l'idea del team di gnome però secondo me in determinate occasioni non posso farne a meno e comunque in generale anche se posso farne a meno rimane comunque una comodità quindi la prima estensione che utilizzo e che sarei praticamente obbligato ad utilizzare se facessi conferenze sul zoom sarebbe questa qui app icon stacks bar e per me avrebbe un'importanza veramente rilevante poi principalmente ho solo estensioni diciamo per la bellezza grafica ad esempio blur my shell è praticamente l'estensione che fa questo effetto qui sul pannello quindi se lo disattivo vedete che il pannello diventa nero se vado nell'overview dell'attività qui è tutto grigio se vado quindi le applicazioni anche qui appunto è tutto grigio con blur my shell invece vedete che il pannello diventa appunto diciamo più trasparente anche qui vedete che dietro non è più grigio si vede un po' lo sfondo si intravede lo sfondo e secondo me lo rende appunto più carino da vedere quindi è una cosa grafica non che sia tanto utile nel senso non aggiunge un'utilità una comodità gnome ma lo rende più carino da vedere secondo me lo rende appunto più piacevole alla vista diciamo che così un po' più grigio ecco a me non piace appunto vedere troppe zone scure in generale vedere troppi neri mi piace vedere qualcosa di più colorato ecco poi utilizzo questa estensione qui colore ed application menu icon che è praticamente la stessa cosa di blur my shell nel senso non è un'estensione di utilità non è un qualcosa che aggiunge un'utilità gnome ma è un qualcosa che rende gnome più bello da vedere nel senso se ora disattivo adesso non si vede perché devo disattivare anche questo vedete che qui l'iconcina appunto di questo programma qui è bianca ad esempio anche se apro firefox qui l'icona di firefox è bianca se io abilito questa estensione vedete che diventa azzurra cioè diventa del colore praticamente dell'applicazione se io apro estensioni questo qui verde ha l'icona verde ma se disattivo questa qui anche qui l'icona è bianca quindi appunto è una cosa più che altro di bellezza grafica diciamo che a me piace vedere una cosa così perché appena ho installato gnome era tutto in bianco e nero praticamente cioè mancava poco che anche lo sfondo fosse grigio a quel punto avremmo avuto gnome in bianco e nero e non mi piaceva quindi ho voluto un po' andarlo a rendere diciamo più gradevole aggiungendo colori aggiungendo altre cose poi abbiamo gs connect gs connect credo che chi utilizzi gnome comunque sappia cos'è praticamente è un kde connect però fatto per essere integrato su gnome perché kde connect io ho provato ad installarlo su gnome ma si tira dietro un'infinità di dipendenze di kde mentre gs connect è un'integrazione di kde plasma però appunto per gnome quindi tramite gs connect possiamo gestire il nostro dispositivo vedere ad esempio quanta carica di batteri ha se ci arriva una chiamata sul dispositivo ci viene una notifica ci dice guarda che ti è arrivata ti sta chiamando qualcuno io questo lo trovo molto comodo perché quando lavoro non guardo il cellulare cioè spesso lo lascio proprio in un'altra stanza oppure molto distante da me per non avere la tentazione di usarlo e quindi dato che non ce l'ho proprio a portata di mano è comodo che magari mi arrivi la notifica guarda che si sta scaricando oppure guarda che ti stanno chiamando guarda che ti è arrivato un messaggio e tutto questo genere di cose quindi gs connect è praticamente un'integrazione di kde plasma tant'è che si integra proprio con l'applicazione kde connect su android quindi su android dobbiamo scaricare l'applicazione kde connect su gnome installiamo l'estensione gs connect e appunto le due cose comunicano quindi molto comodo per non portarsi dietro appunto tutto plasma all'interno di gnome poi abbiamo rounded window corner anche questa qui è una cosa praticamente di bellezza perché l'ho anche mostrata in un video apposito in cui ho parlato appunto di come rendere gnome più coerente ma in poche parole noi cosa sappiamo che se io ad esempio apro pavu control che è scritto in questo caso in gtk3 se io vado a disattivare questa estensione qui adesso mi torna utile questa vedete che i bordi delle finestre sono squadrati se io attivo questa qui ok anche i bordi delle finestre delle applicazioni gtk3 sono appunto arrotondati perché purtroppo su gnome solo i bordi delle applicazioni gtk4 o l'ibadwaita sono arrotondati i bordi delle applicazioni gtk3 che loro chiamano legacy application old application e questi nomi qui sono appunto squadrati e questo rende gnome molto incoerente perché la stragrande maggioranza dei programmi sono scritti o in qt o in gtk3 ce ne sono pochi scritti in gtk4 e di conseguenza sono pochi i programmi ad avere effettivamente i bordi arrotondati però io vorrei che avessero o tutti i bordi squadrati o tutti i bordi arrotondati il fatto che tutte le applicazioni abbiano sopra i bordi arrotondati e sotto i bordi squadrati secondo me non è bello da vedere quindi anche questa qui è una cosa appunto più che altro di bellezza di bellezza grafica non tanto di utilità poi abbiamo 3 icons reloaded la penultima e questa qui praticamente anche questa qui l'ho mostrata in un video apposito ed è praticamente la 3 icons in cui appunto vediamo le applicazioni aperte ho dovuto installarla perché io uso telegram come credo molti di voi e quando registro i video come in questo caso ad esempio devo disattivare le notifiche di telegram perché sarebbe brutto che magari io sto registrando iniziano ad arrivarmi notifiche di telegram quindi le disattivo in questo modo appunto non si vede il fatto è che le notifiche di telegram si possono disattivare anche dalle impostazioni di telegram ovviamente inizialmente avevo cercato di fare questo avevo cercato un po' di adattarmi all'idea di workflow che il team di gnome ha cercando di disattivare le notifiche di telegram ogni volta dalle impostazioni l'ho fatto una volta l'ho fatto due volte la terza volta ho detto è troppo scomodo mi installo sta estensione perché non posso ogni volta che devo disattivare le notifiche aprire telegram andare nelle impostazioni andare nelle impostazioni delle notifiche disattivare poi quando devo riattivarle riaprire telegram riandare nelle impostazioni scusatemi ma è troppo allora qui vado qui tasto destro attivo disattiva notifiche e in mezzo secondo ho fatto quindi questa qui è una cosa e poi qui torniamo al discorso di app icon stacks bar quando faccio conferenze sul zoom zoom appunto ha anche l'icona qui nella 3 icon se mi serve per capire se sta funzionando se effettivamente è aperto o meno se non c'è diventa scomodo non che sia impossibile ma diventa più scomodo e quindi appunto comunque mi torna utile questa estensione qui infine c'è virtualbox applet che l'ho trovata semplicemente cercando qui non mi ricordo più cosa mi ricordo che è uscita questa virtualbox applet ho guardato cosa facesse ed è estremamente comoda perché non è utile nel senso non è che ti aiuta a fare qualcosa però io uso molto windows 10 macchina virtuale perché mi serve un programma apposito per fare trading che su linux non c'è io vado qui clicco windows 10 e mi si apre la macchina virtuale e questo è tipo wow perché altrimenti volessi aprire quella macchina virtuale cosa dovrei fare ogni giorno aprire virtualbox avviare la macchina virtuale non è che diciamo sarebbe impossibile su xfce lo facevo su plasma lo facevo non è che sia qualcosa diciamo infattibile però è comodo io clicco qui clicco windows 10 senza dover aprire direttamente virtualbox e questo è bellissimo se io creo un'altra macchina virtuale ad esempio io voglio creare che ne so la macchina virtuale di freebsd dico una cosa a caso quando poi l'ho creata vado qui qui avrò anche oltre a windows 10 freebsd cliccherò freebsd e si avvierà freebsd ed è comodissimo quindi queste sono un po' le estensioni che uso ovviamente non vi sto a dire che ogni estensione ha le sue impostazioni quindi ogni estensione ovviamente la possiamo andare a regolare come preferiamo ad esempio per quanto riguarda blur my shell possiamo modificare appunto l'intensità della sfocatura la luminosità il colore eccetera eccetera e possiamo per ogni estensione andare appunto a personalizzarle un po' come meglio crediamo come vogliamo ovviamente quindi a parte queste qui che sono estensioni magari un po' più semplici che non devono fare niente di particolare ora voglio lasciarvi con due bonus che sono uno di dterm che adesso io non posso usare perché non ho gnome terminal ma ho kgx che è praticamente questa qui console praticamente il terminale di gnome però scritto in gtk4 fatto sempre dal team di gnome però praticamente ddterm è un'estensione che ci permette di avere il terminale in versione drop down non che sia un grosso problema nel senso che per fare questo utilizzo anche guacche quindi il terminale guacche praticamente fa la stessa cosa di ddterm però sappiate che c'è anche appunto un'estensione che vi permette di avere un terminale drop down senza dover installare un programma apposito e poi abbiamo logo menu che praticamente anche questa qui è una cosa di bellezza nel senso che se io la installo vedete che mi dà un'icona differente qui non c'è più scritto attività ma c'è il logo e volendo e adesso è anche andato via chissà perché vabbè ma andiamo nelle impostazioni nelle impostazioni possiamo vedete c'è il logo praticamente di quasi tutte le distribuzioni sia in versione bianco e nero sia in versione colorata quindi abbiamo fedora debia mangiaro popoè subunto eccetera eccetera anche in versione colorata vedete quindi ho posto ad esempio dire o arch bene ci sono anche vedete bsd freebsd openbsd netbsd oppure anche tux io qui posso dire bene o arch oppure o mangiaro e mi metto il logo di mangiaro colorato oppure in bianco e nero possiamo ovviamente andare a modificare la dimensione dell'icona quindi renderla più grande o più piccola e se noi clicchiamo qui abbiamo vedete informazioni sul sistema quindi mi si apre appunto mi si aprono le informazioni o le varie scorciatoie attività griglia applicazioni che è questa qui centro software che adesso io non ho Gnome software qui ma comunque vedete il terminale non neanche il terminale ma comunque posso aprire vedete abbiamo appunto le varie cose forza chiusura applicazione io clicco forza chiusura applicazione scelgo l'applicazione che voglio killare ad esempio questa qui e l'ho killata può tornare utile quando magari un'applicazione non risponde quindi vi ho lasciato questi due bonus che io non uso però se volete darci un occhio se appunto pensate che possono abbellire il vostro sistema io vi ho dato lo spunto quindi queste sono le estensioni che durante la mia prova di Gnome durante appunto il periodo in cui ho utilizzato Gnome ho installato appunto per rendere Gnome più adatto al mio tipo di lavoro al mio workflow adesso lo chiamano così quindi no comunque a parte gli scherzi queste sono le estensioni che ho usato scrivetemi nei commenti voi magari quante estensioni avete che estensioni usate se pensate che sia sbagliato usarle in generale cosa ne pensate quale estensioni avete cosa ne pensate magari anche di quelle che uso io se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e noi come sempre ci ritroviamo in un prossimo video ciao